E con la sesta vittoria consecutiva colta sul parquet di Masnago con l'Open Gioometti Svarese arriva anche un importante riconoscimento individuale per i giocatori dell'Epicasa Brindisi perché Rafael Gaspardo è stato premiato come MVP e come miglior italiano della settima giornata di Serie A. Le immagini e i numeri parlano per lui, 27 punti in 31 minuti di presenza in campo con 5 su 5 da 2, 5 su 9 da 3, 2 su 2 in lunette e 28 di valutazione. E' stato indiscutibilmente il miglior bianco-azzurro in campo, il trascinatore della squadra di Frank Vitucci con una Open Gioometti smalandata sì anche per ragione di Covid ma ansiosa di dare una svolta al fallimentare avvio di campionato. E invece per i Lombardi è arrivata la sesta sconfitta consecutiva mentre i pugliesi hanno collezionato il sesto successo dopo lo sfortunato esordio stagionale nell'Allianz Dome di Trieste. Nella classifica stilata da Lega Basket Gaspardo ha preceduto Arnas Veliza della Gevinapoli, Stefano Tonut della Humana Reier Venezia e Niccolò Melli dell'Armani Exchange Milano. E tutto questo grazie alle sue triple e alla prestazione complessiva senza dimenticare due rimbalzi, due assist e una stoppata, tanto per completare l'opera. E come evidenzia la stessa Lega Basket si tratta della sua seconda partita con almeno 25 punti e 5 triple a referto, la prima avvenuta sempre in questo campionato contro il Banco di Sardegna Sassari quando Gaspardo ha fatto registrare il massimo in carriera, 29 punti, 7 triple e 34 di valutazione. Ottimo anche il suo rendimento difensivo per la soddisfazione del capo allenatore bianco-azzurro. Sin qui un bilancio davvero eccellente per il numero 10 dell'Epicasa Brindisi, classe 1993, 200 cm di altezza, amatissimo dalla tifoseria bianco-azzurra.